Pubblicata sul portale web l'asta per l'allineazione di 35 immobili situati all'interno del Parco Verdiana Montecorvino Pugliano in località Pagliarone, il bando di venti è stato pubblicato in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale dello scorso 13 aprile e nel rispetto del regolamento per l'allineazione dei beni comunali. L'asta pubblica prevede l'ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d'asta per ogni singolo lotto. La giudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta valida. L'offerta e tutti i documenti dovranno pervenire appena l'escursione della gara entro e non oltre le ore 12 di martedì 1 giugno 2021. Diamo informazioni ai cittadini della vendita di 27 sottotetti con richiesta di condono già effettuata nel 2003 e 7 box. L'importanza di questo bando lo sanno quasi tutti, soprattutto tutto il territorio di Montecopino Pugliano, di risolvere al più presto la problematica del Parco Verdiano che ha visto coinvolti diverse famiglie. Quindi davvero è un atto importante, davvero riusciremo a risolvere alla vendita di questi beni una riqualificazione generale sul contesto di Pagliarone. Grazie.